Buongiorno mister, Gian Paolo Limardi di Foggia Sport 24, c'è stata la sosta, mister 15 giorni di riposo e di lavoro quindi è ovvia la prima domanda, com'è la condizione generale della squadra, come la trova anche se ovviamente anche questo campione di Serie B vi sta obbligando un po' ad adeguarvi a questo nuovo regime le soste, le femme, quindi è anche sempre complicato definire prima di una gara come ci si trovi però insomma il livello generale per quello che lei ha visto come la condizione generale della squadra poi magari entriamo nei particolari Ha detto tutto lei, ha fatto la domanda e ha dato la risposta quindi bisogna adeguarsi a questo campionato da adesso in poi in due settimane avremo quattro partite quindi poi ci saranno altre due settimane di sosta La squadra ha lavorato bene ma come sempre ci avviciniamo a questa partita con il Cosenza sapendo di affrontare una squadra che è in salute una squadra viva una squadra molto dinamica, molto aggressiva però noi siamo il Foggia e la nostra mentalità cerchiamo di costruirla partita dopo partita e quindi dobbiamo essere bravi ad andare lì con la stessa mentalità e a cercare di far risultato sapendo che partite in serie B scontate non ce ne sono ogni partita è un esame e questo per noi è un bel esame Entrando nello specifico condizioni di alcuni giocatori di quelli che erano reduci da una situazione per esempio Kragl è gentilmente perché non mandi in conferenza me l'ho preparata questa adesso non me la ricordo più io studio per darvi le risposte allora la prima domanda partite in serie B scontate non ce ne sono affrontiamo una squadra che è in salute una squadra che è viva, una squadra molto aggressiva una squadra che certamente cercherà di crearci delle difficoltà ma d'altro canto noi stiamo cercando di costruire una mentalità che deve portarci a fare partita ovunque poi dobbiamo essere bravi come sempre a capire l'importanza della gara e dopodomani è una partita importante e soprattutto cercare di fare quello che proviamo durante gli allenamenti è un campionato che ci vede arrivare da due settimane di sosta poi in due settimane avremo quattro partite poi avremo altre due settimane di sosta quindi dobbiamo essere bravi noi ad adeguarci al campionato e ai ritmi dello stesso Ecco le chiedevo le condizioni di Kragel se ci sono delle altre situazioni particolari e Iemmello si è riaggregato alla squadra psicologicamente più che fisicamente penso ci sia un po' di tempo come ha trovato il ragazzo Grazie Prego Kragel si è aggregato a noi da un paio di giorni in maniera continuativa chiaramente la settimana scorsa ha lavorato sempre a parte cercando di smaltire questo problema muscolare quindi è a disposizione per quanto riguarda Iemmello si è riaggregato a noi lunedì viene da cinque mesi di inattività e quindi lo portiamo con noi perché è giusto che cominci a respirare l'aria però di strada ce ne vuole Ecco Mistera Cosenza Fabio Lattucchella te la dà una calcio web Puglia Mistera Cosenza stanno pensando anche hanno dei problemi con il modulo stanno cercando di cambiare modulo probabilmente lei che partita si aspetta dal Cosenza e come l'ha preparata in settimana? Sì è una squadra che a Carpi ha cambiato modulo però insomma penso che sia relativo il modulo anche con il vecchio modulo è una squadra che ha sempre fatto partita è una squadra che ha raccolto meno dei punti che ha in classifica è una squadra che ha grande aggressività giocatori molto rapidi ha fisicità è una squadra che attacca bene la porta andiamo in un ambiente caldo dove c'è grande supporto da parte dei loro tifosi però ripeto mi interessa poco veramente di quello che è il Cosenza con tutto il rispetto mi interessa soprattutto quello che siamo bravi a fare noi mi interessa l'approccio che avremo noi alla gara mi interessa l'intensità che metteremo dentro mi interessa la personalità che dobbiamo dimostrare di avere cioè di crescere sempre la mentalità di fare la partita poi come ho detto prima la Serie B è un campionato dove ognuno può vincere contro chiunque è un campionato che non ti regala niente è un campionato che ti costringe sempre a stare concentrato altrimenti puoi perdere contro tutti e commissario non perché sia un argomento maniacale ritorno un attimo sulla situazione Iemmelo vi siete dati oggi che vi siete insomma visti anche in campo vi siete dati delle scadenze oppure ci saranno dei passaggi che farete volta a volta? ma io sinceramente la cosa che farei è lasciare tranquillo il ragazzo insomma c'è un'attesa che non esiste in questo momento perché ho detto prima che l'ultima partita che ha giocato Iemmelo è il 6 maggio dell'anno scorso dopo è stato un calvario per lui dal quale sta cercando di uscire con grande sacrificio con grande impegno noi lo portiamo ma lo portiamo perché vogliamo che lui respiri la nostra aria perché da lunedì si è aggregato a noi però non creiamo un'attesa che non c'è che non deve esistere che non deve assillare soprattutto il ragazzo Pietro deve continuare a lavorare come ha fatto questa settimana a trovare la condizione capire quello che magari facciamo noi in campo e poi è un giocatore che ha grande qualità però non mettiamogli fretta insomma a meno ne parliamo e meglio è prego mister buongiorno 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 ma l'analizzo che sono fatalista come vi ho detto tante altre volte perché se mi fossilizzassi sulla sosta quando c'è stata magari andavamo bene io per quanto mi riguarda le tre partite le tre vittorie consecutive le ho già cancellate come ho cancellato magari le tre sconfitte consecutive mi piace vivere la settimana in maniera intensa e non pensare al passato quindi non guardarmi indietro noi dobbiamo dimenticare di aver fatto una striscia positiva ma dobbiamo ricordare come l'abbiamo ottenuta e quindi basarci su quella che la classifica nostra è quella del Cosenza e quindi sarà uno scontro diretto per la salvezza e non dobbiamo volare oltre nel senso che non dobbiamo farci trascinare in un senso o nell'altro cioè in positivo o in negativo da tutto ciò che ci ruta intorno noi dobbiamo rimanere sempre noi stessi, continuare a lavorare, continuare a crescere lavorare sugli errori, lavorare sulle cose positive ma fare il nostro campionato senza girarci o lateralmente o indietro ma guardare avanti lavorare sugli errori, nelle ultime tre vittorie c'è una costante che poi è un neo negativo sono i gol subiti nei primi dieci minuti praticamente in maniera similare in azioni fotocolle ci avete lavorato, sta lavorando sulla difesa, è colpa di chi per lei, dei difensori che sono in maniera statica e fanno saltare gli attaccanti o è colpa di chi fa crossare? Tutti e due, si lavora in undici vi posso assicurare che ai miei giocatori a partire dagli attaccanti chiedo un lavoro notevole che fanno magari perdendo anche qualche energia quindi certamente le cose negative le guardiamo, le valutiamo, ci lavoriamo cerchiamo di capire il perché, cerchiamo di evitare che possano succedere ma ci sono anche gli avversari e magari hanno anche grande qualità tolgo il magari, dobbiamo essere bravi a limitare gli errori ma certamente a calciare in porta ci calceranno questo è inevitabile Senta, le statistiche lei le guarda, non so se ha visto che il suo foggia delle squadre di serie B ha tutti i fattori positivi sia per quanto riguarda i tiri in porta sia per quello che riguarda l'intensità del possesso palla cioè è in crescita, è una squadra comunque in ottima salute non a caso sarebbe al terzo posto in classifica senza la penalizzazione secondo lei a che percentuale la squadra e quanto può migliorare ancora? Non mi piace parlare di percentuale, mi piace parlare di una squadra che sta acquistando certamente anche autostima in quello che fa perché i risultati soprattutto positivi poi ti danno la convinzione che quello che stai facendo è positivo che ci sono margini di miglioramento, questo è inevitabile anche perché molti giocatori stanno crescendo di condizione quando arrivo alla mattina per fare la formazione comincio a pensarci un po' di più e quindi vuol dire che soprattutto chi era indietro di condizione sta arrivando e quindi quello mi lascia a me sperare però di percentuali non mi piace parlare perché poi nell'arco di un campionato e di una partita ci sono partite che riesci a far bene, partite che riesci a far meno bene altrimenti poi staremmo sempre parlando di magari una partita che non vai bene allora hai fatto dei passi indietro invece sappiamo del lavoro che dobbiamo fare sappiamo della qualità degli avversari sappiamo che la crescita negli ultimi tempi è stata costante ma non dobbiamo abbassare la guardia perché poi ogni partita nasconde delle insidie Un'ultima cosa gliela chiedo sui singoli Rizzo a che livello è, se c'è qualche problema per Camporese come sta Kragol, come vive la squadra quotidianamente e come arriva questa partita di Cosenza Abbiamo ancora un allenamento per valutare tutte le situazioni qualcuno ha qualche problemino, qualche acciacco ma lo valuteremo poi la mattina della gara la squadra poi sta bene, ha lavorato bene la settimana scorsa abbiamo fatto un lavoro incentrato un po' di più sulla forza questa settimana abbiamo lavorato più da un punto di vista tattico però ripeto Sì, sono tutti convocati siamo in 25 rimane a casa Arena e per infortunio Cavallini si aggrega alla primavera e poi partiremo tutti Buongiorno Chiedo su Rubin Sì Buongiorno mister Raffaele Fiorella Gazzetta del Mezzogiorno Diceva prima comincio a metterci un po' più di tempo nel pensare alla formazione rispetto a prima il collega faceva anche riferimento prima a Rizzo a questo proposito questa settimana cosa ha detto in previsione di questa partita il Foggia ha trovato una sua stabilità da 3-4 partite a livello di sistema di gioco e anche di scelte negli uomini al di là forse di 1-2 al massimo differenze partita per partita per questa di Cosenza a che punto sono le valutazioni? Che incomincio a pensarci un po' di più vi ho detto dopo la partita con l'Ascoli che la staffetta Gerbo Zambelli l'ho decisa un paio d'ore prima della partita mi sono portato il dubbio poi tutta la notte e così sarà domani ma soprattutto dalle gare che poi verranno perché poi abbiamo delle partite ravvicinate certamente rispetto alle partite consecutive parlo quelle infrasettimanali di un mese fa ci sarà qualche cambio in più proprio perché dei giocatori sono cresciuti di condizione e mi permettono di fare delle scelte un po' più mirate Ecco mister al termine della partita con l'Ascoli lei evidenziò sia gli aspetti positivi della vittoria ma con grande onesta ammise che si era sofferto in quella partita che quindi avreste un po' studiato valutato il tutto e avreste cercato di correggere ciò che non aveva funzionato per il verso giusto Le chiedo a me personalmente piacque molto il primo tempo di Benevento per il modo in cui la squadra con il pressing e il fraseggio chiuse il Benevento nella sua metà campo a che punto è il Foggia per poter vedere con costanza un primo tempo così portato in estensione in tutte le partite se è quello l'obiettivo che lei vuole raggiungere Sì l'obiettivo è quello cosa che la squadra aveva fatto molto bene anche a Pescara oltre che a Benevento poi io mi rendo conto che soprattutto per voi il risultato poi a volte inganna magari fai una buona prestazione molto buona a Pescara e perdi e siamo tutti voglio dire sotto la lente di ingrandimento perché si è persa la partita ma io ho il dovere di valutare la prestazione e la prestazione è stata molto positiva di fatti poi di là in poi la squadra è cresciuta ulteriormente col Benevento la squadra aveva fatto benissimo con l'Ascoli ha fatto meno bene ma sapevamo anche della forza degli avversari che voglio dire ha pareggiato con la Cremonese parlo dell'Ascoli ha battuto il Lecce e questo testimonia il fatto che partite facili non ce ne sono soprattutto quando poi dall'altra parte trovi una squadra ben organizzata e così nello specifico sarà anche la partita di Cosenza è normale che noi l'abbiamo preparata come abbiamo preparato e pensiamo di aver preparato bene tutte le altre poi c'è la singola gara c'è l'episodio c'è magari la giornata dove ti senti meglio e dove riesci a fare delle cose che magari ti senti di fare e ti riescono l'idea è quella di far sempre le partite così e quindi avere una mentalità che ti porti a fare sempre la gara ad essere sempre una metà campo avversaria però penso che l'idea che ho io ce l'hanno tutti i miei colleghi poi non sempre ti riesce noi miriamo a quello a una mentalità una caratterialità che ci deve sempre contraddistinguere Trasferta di Cosenza insidiosa lo diceva lei per diversi motivi poi il derby con una neopromossa che è terza come peraltro terzo sarebbe il Foggia senza il meno otto e poi due partite contro due squadre tra quelle che conoscono meglio la categoria perché sono abituate da più tempo a farla cioè a Cittadella e in casa con il Brescia questo ciclo di quattro partite ravvicinate in due settimane cosa deve dire per il Foggia dove spera lei di veder collocato il Foggia la sera del 3 novembre qual è l'obiettivo da porsi grazie ma io il mio obiettivo è al 20 ottobre cioè alla partita di dopodomani col Cosenza guai se andassimo oltre ripeto noi dobbiamo rimanere concentrati soprattutto noi e parlo io e i miei calciatori all'interno di ogni singola partita senza farci prendere da altre situazioni e quindi cercare di far bene di far prestazione di avere quella mentalità di avere quell'intensità che si è avuta nelle ultime partite e poi accettare il risultato qualsiasi esso sia l'importante che la squadra mantenga quegli equilibri che ha mantenuto nelle ultime partite poi oltre sinceramente non mi sento di andare se non ripetere quanto detto che nelle prossime quattro partite abbiamo bisogno veramente di tutti i calciatori a disposizione Domenico Carella Foggia Sport 24 e Corriere del Mezzogiorno buongiorno buongiorno le chiedo si parlava prima di un rizzo che sta cercando di recuperare più presto la piena forma nel suo scacchiere anche per le caratteristiche che ha nel 3-5-2 visto fino adesso quale ruolo potrebbe ricoprire mi spiego una mezzala più offensiva quello che potrebbe essere il compito che stiamo vedendo in questo momento fare a Deli o magari anche dietro alla punta ecco cosa cosa in mente per un calciatore come Rizzo ma innanzitutto è un giocatore che nelle ultime settimane parlo soprattutto dell'ultima settimana è cresciuto molto da un punto di vista dell'intensità che è quella che gli manca perché poi Rizzo ha una qualità che è immensa nel momento in cui ha la palla tra i piedi sicuramente nel 3-5-2 è un giocatore che ricopre il ruolo di mezzala anche perché per come stiamo giocando adesso Gallano e Chiaretti si contendono il posto di sottopunta e poi chiaramente Rizzo è un giocatore che ti può ricoprire il ruolo di esterno il ruolo di tre quarti cioè un giocatore che è eclettico sotto questo punto di vista quello che mi soddisfa e ci soddisfa è che lui da un punto di vista proprio dell'intensità nella partita nei movimenti è un giocatore che ha acquistato tanto nell'ultima settimana ed è quello che gli mancava o magari gli manca ancora adesso che però sta acquistando Un'ultima domanda per quello che mi riguarda le chiedo se è difficile o particolare gestire questa situazione anche di classifica perché il Foggia senza la penalizzazione l'abbiamo detto prima sarebbe lì al terzo posto sta dimostrando gioco e risultati per essere lì in alto però giustamente lei prima ha fatto riferimento alla gara di Cosenza come uno scontro diretto per la salvezza perché poi alla fine la classifica al netto della penalizzazione dice quello che in questo momento il Foggia deve tirarsi fuori quanto è difficile gestire questa situazione dal punto di vista ambientale per quanto riguarda il gruppo e anche probabilmente ambientale perché c'è una piazza che al di là dei risultati preme affinché si salga sempre più in alto Ma noi siamo contenti che la piazza cresca in entusiasmo e voglia questo Foggia sempre più avanti la realtà parlo adesso della realtà anche nostra è quella di vivere una classifica che in questo momento ci dice che siamo in una zona rossa e che dopo domani abbiamo uno scontro diretto importante quindi dobbiamo sapere che dobbiamo andare a cosenza con il coltello tra i denti anche perché loro non hanno ancora vinto anche perché loro in casa ci tengono a far bene anche perché abbiamo visto che è una squadra che crea tanto che ha grande dinamismo grandissima aggressività e quindi se poco poco dovessimo arrivare lì tacco e punta ce ne torneremo carichi di meraviglia indietro ma siccome ho la fortuna di guidare un gruppo molto intelligente e maturo da questo punto di vista sappiamo che è una partita per noi importante soprattutto da un punto di vista della crescita e parlo dell'autostima della consapevolezza della mentalità che non dobbiamo assolutamente sbagliare almeno questo poi come dico sempre ai ragazzi tireremo una linea a fine gara e accetteremo qualsiasi risultato ma guai se benissimo o meno da un punto di vista del carattere vuol dire che avremmo sbagliato strada questo non possiamo permettercelo grazie a tutti